Ragazzi raggiungiamo 10 mila like per vedere la prossima bomber versus food Mi raccomando qua sotto scrivete chi vincerà, Digg o Zappa Ciao amici, noi siamo i due bomber anti-style Bomberissimi, come grande richiesto ritorna la bomber versus food Ovvero i due bomber contro le 6 pizze ragazzi Sono abbastanza pesanti Beh ragazzi allora in primis diciamo che questa sfida sarà molto tra me contro Digg Andremo a vedere in base a quanti punti prenderemo per ogni crossbar Quindi un punto, due punti, tre punti in base alla porta Chi riuscirà a mangiare più pizza Però direi, direi, non diciamovi nient'altro Andiamoci a godere questa sfida bombers Guardatevela tutta, like e commento No 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 Sono tre pizza a testa Ok, vai Fetta di pizza Questa è la fame Questa ragazzi è la fame perché è l'una Oh, tre pizza Ribattuta Ah Niente Quattro pezzi di pizza Uh Uh Lo attivo così in assista intera Oh Beh ragazzi bombers Tre pezzi di pizza Tanta roba Vediamo a sapere quanti ne prende Sono curioso E tutti aspettano Primo Due Due Dobbio punto Attenzione Tiro Leggermente di fare un bel Oh, niente Appiazzata Oh E stanno a cinque punti totali Cinque Siamo a totale cinque Vai Tiro look Ah Ah niente Tre a cinque Tre a cinque momentane Occhio Niente Due punti Siamo sette Al volo Laterale Zero Sette pezzi per zap E tre pezzi per dig Un po' disonesta Perché meritava un po' di più Andiamo a mangiare C'ho fame Partiamo Mettiamo le laterali E si parte Un po' la finita Sapeto zap Salute Che schifo che fa zap Ragazzi Allora prima step Va bene così Ma al prossimo Avremo un timer Di un minuto massimo Per mangiare Mangiati sette pezzi di pizza In un minuto E se sbagli Per il timer Dai puoi mangiare Qua potremmo chiamare il tasto bomber Minchia il tasto bomber più bello della storia Il timer da suicidio Non finisci la crosta Zapp Ti debbiamo i punti Ti chiudo La mia pezza di pizza L'ho mangiato E' stata molto buona Penso che nella seconda Ragazzi Metterò un po' il boost Perché Bisogna prendere un po' più crossbar Attenzione Zapinio ci sta dando Di coca cola Lui vuole La coca cola Non mi sa coca cola Mica Questo è un pezzo di pizza Raga Non lievitato Senti quanto è pesante Attenzione Ultimo pezzo per zap E nel turno Per successivo Verrà inserito Il tasto Dai Dai Veloce Dai Che solo 3 punti in più E' fatto Dai Dai Ragazzi Sì sono a me in campo Go Secondo round Dopo questa bella piccola Vai Due punti 3 punti 3 punti No 3 punti 5 punti 5 punti in rig Di margherita Ah l'ho presa Siamo a 6 Siamo a 6 6 punti 6 punti 6 punti 6 punti Eh meno male No look Prima tiro Eccolo Eccolo Dobbiamo 2 punti per zap Via Vai Cautilizzerà zapigno In questo secondo round 0 2 Siamo a 2 Vai Fuori Dai Le sta lanciando tutte fuori zap Noo Eeeh 4 punti 4 v2 Sono 6 Noo Sono 8 8 pezzi di pizza per zap Noo Sono 9 Sono 10 Veramente sono 10 Ok 10 pezzi Io prevedo la morte di zap E zapigno deve mangiare 10 pezzi di 7 Si diciamo che queste qua valgono doppie perchè non sono tagliate Eh ma vale un punto lo stesso No no che cazzo dici Una pizza divisa in 6 pezzi Dai 3 No in teoria in 8 In 6 Ma come cazzo ho fatto io Prima ne hai mangiato i 6 e mi è finita una pizza Dobbiamo farle uguali Non rompere Ne vuole essere 6 Oh no C'è una grossa di due ragazzi Ma stendo Non vale Se non finisci il pezzi di giacca non vale il punto Finito No no Devi finirla Si No si è bene Te la metti tutta in bocca Non è che hai finito il pezzo Io l'ho finita proprio sul gong Ragazzi 3 minuti Ce l'hai in mano Guarda che la sta mettendo in tasca Per vogliare Ce l'hai in mano Ce l'hai Ce l'hai messa in tasca Guarda 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 che sporca di pizza La crosta è fredda Quindi è un impasto praticamente immangiabile Bomber Tanti punti nel ragù precedente Zapigno ne ha persi 7 E Dic ne ha persi 4 Però ragazzi Mangiare Pizza fredda in 3 minuti Prossimo round 5 minuti Almeno 5 minuti Anche se non monteremo velocizzando E vediamo quasi Vai tocca a te Dico 3 pezzi 3 pezzi e non chiede ne di più Secondo me 3 Ecco 3 Attenzione Devi portare a casa i punti 4 4 pezzi 4 pezzi 4 pezzi 4 pezzi 5 5 piste Gran gol Gran gol Gran gol Gran gol Gran gol Gran gol Io non avrei fatto Niente 6 La prima volta Questa è la prima sfida Che non si esulta Primo tiro Zero Momentaneamente 0 punti Eccolo 3 punti 3 pezzi 3 pezzi 3 pezzi di pizza Vai Niente 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 punti Quindi 8 E io 6 3 2 1 5 Minus 4 8 Adesso Per questa challenge Deva vincere chi è il primo buffalo del 3 2 Quindi ci capisci Si porta già avanti Ligra 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 6 ci sono passati 3 2 1 2 e mi mangia mai 4 oh più presto oh 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 per un attimo ho pensato che prendessi la porta quella piccola 8 11 pezzi di pizza lo vediamo sboccare è il fiatone in questo momento qua si può vedere un digg in seria difficoltà non tanto perché stanco ma perché è pieno primo tiro 2 0 0 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 3 3 2 3 9 9 a 11 andiamo ragazzi no ragazzi c'è una pizza intera così no ma secondo me holland è norvegese o hollandese bravo ti fichi dai basta direi di dare il gong con stila no con stila il gong lo do io raga il gong non è impossibile è fredda posso da pensare che questa è la mia prima pizza in pizza spero spero non funziona no ma non funziona non funziona ma niente ci deve essere qualche fara nel sistema poi da qua mi arriva pure l'odore di pizza fredda drusto quando vuoi dimmi di utilizzare la mossa speciale adesso adesso sto vomitando vabbè la mossa speciale è lo sbocco vabbè vabbè del mio allenato stammattico oh mica sto sboccando no 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 non pare la mossa segreta mi si è rivolta contro da pigno al riso e mi ha fatto mia bella sbocca mostra segreta le bomber versus food chiunque dovesse ricurgitare qualsiasi cosa ragazzi questa l'ho persa ma la prossima io non vedevo l'ora di vedere